Ora ci si interroga sul futuro della Paganese. La vicenda giudiziaria che coinvolge il club azzurro stellato, il presidente Trapani e il vicepresidente Marrazzo dà spazio a forti timori tra i tifosi ligurini. Timori che riguardano un possibile stop al piano B varato proprio da Raffaele Trapani dopo il flop nella trattativa con gli imprenditori romani contattati dal consigliere provinciale Massimo Donofrio. Il progetto prevedeva infatti un'equa ripartizione delle quote societarie tra 5 o 6 soci in modo da ripartire senza intoppi nel prossimo torneo di seconda divisione. Domani avrebbe dovuto esserci l'ufficializzazione di Cosimo Deboli quale nuovo direttore generale del club azzurro stellato. Intanto però nel pomeriggio di oggi gli altri soci si riuniranno per fare il punto della situazione alla luce proprio della vicenda venuta fuori questa mattina. L'idea è quella di andare avanti e di non abbandonare la nave per proseguire il discorso calcistico nella città di Sant'Alfonso. Questo è quanto si fiuta negli ambienti vicini alla società azzurro stellata, ipotesi rafforzata dal fatto che potrebbe comunque esserci l'incontro con Deboli nella giornata di domani. Il tutto ovviamente in attesa di sviluppi che possano chiarire definitivamente la vicenda relativa soprattutto a Raffaele Trapani, principale artefice della cavalcata della Paganese dalla serie D alla prima divisione.